Per Belen è stato un magico Natale, con sé la figlia Luna e si sono divertiti tantissimo. Adesso in volo per l'Argentina, stanno per arrivare e passeranno un capodanno fantastico assieme anche a Santiago. Ieri sera hanno preso il volo per l'Argentina, staranno per arrivare, attendiamo con ansia le prime immagini dall'Argentina. Ciao! Ciao!